Ben trovati a un nuovo spazio dedicato all'informazione. L'Unione Europea si dice pronta a valutare il piano della Germania che prevede di introdurre un tetto massimo al prezzo del gas per contenere l'impennata dei costi dell'energia. La Commissione Europea è ben consapevole delle difficoltà provocate dall'attuale crisi energetica negli Stati membri ed è pronta a valutare nella maniera più rapida possibile la compatibilità delle misure energetiche adottate in questo contesto. Ovviamente intanto dall'altra parte in Italia si attendono i provvedimenti che saranno adottati dal nuovo governo. Cambiamo argomento. Il Veneto è la regione d'Italia con la maggior crescita del Covid che da martedì sta premendo molto forte in salita. Il dato delle ultime 24 ore sfiora ancora i 5.000 positivi, più 28 i ricoveri all'ospedale, totale pazienti nei reparti Covid 578. In rianimazione sono 25 più 1 rispetto alla giornata di ieri. Dalla provincia di Padova, ennesimo incidente sulla strada del Santo a Cadoneghe è successo questa mattina intorno alle 8. Un'auto è finita rovesciata dopo la perdita di controllo della giovane conducente che è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Padova hanno messo in sicurezza all'automobile e hanno collaborato con il personale sanitario del SUEM al soccorso della donna che è stata stabilizzata sul posto e poi trasferita all'ospedale. Dobbiamo parlare di un altro incidente grave avvenuto a Treviso. Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita. Sentiamo cosa è accaduto. Una persona è morta e una è rimasta gravemente ferita a Treviso per un incidente tra due automobili. L'incidente è avvenuto alle 22 di giovedì. I pompieri arrivati con il personale di prima partenza hanno messo in sicurezza i mezzi ed è estratto uno dei conducenti rimasto incastrato. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte di un 43enne di origini nigeriane. L'altro ferito è stato stabilizzato e trasferito all'ospedale. Le forze dell'ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Abbiamo sentito nel corso di questa edizione i dati della Covid in Veneto ma c'è anche un altro virus che sta premendo forte, che sta creando nuovi contagi. Stiamo parlando del virus trasmesso dalla zanzara infetta, il West Nile. Anche se la stagione sta cambiando, purtroppo le zanzare stanno ancora circolando e così sono saliti anche i contagiati che sono arrivati a 453 rispetto ai 401 della settimana scorsa. Di questi 291 hanno e presentano febbre, mentre 162 sono i casi gravi con una forma neuroinvasiva. Le vittime sono 19, due in più in una settimana e tra le altre virosi presenti in Veneto c'è da segnalare anche il virus dengue. 22 i casi, erano 21 nel bollettino della settimana scorsa. Si tratta di casi tutti di provenienza estera ma che naturalmente potrebbero svilupparsi poi anche a livello locale, per questo viene chiesta poi la massima prudenza. Intanto dal 1 ottobre da domani stop ai dispositivi di protezione contro il Covid. Non dovranno più essere utilizzate mascherine su autobus, corriere, treni e metropolitane. A giugno la prescrizione era stata prorogata fino ad oggi, dopodiché è stato deciso di non rinnovarla. Invece il loro utilizzo sarà obbligatorio in tutte le strutture sanitarie, quindi ospedali, strutture come poliambulatori ma anche pazienti e naturalmente familiari che andranno nelle case di riposo. Dobbiamo parlare di un altro incidente, questa volta avvenuto a Torri di Quartesolo. Un'automobile senza controllo è finita fuori strada. Guardate. La scorsa notte alle 2, incidente in via Camisana a Torri di Quartesolo, un'automobile finita nel prato di una villa dopo aver abbattuto il muro di recinzione, ferita una giovane donna. Sul posto i pompieri che hanno messo in sicurezza la Volkswagen Polo ed estratto in collaborazione con il personale sanitario del SUEM la 26enne che è stata stabilizzata e trasferita in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Prezzi della benzina e del diesel in aumento oggi. Questa mattina per la prima volta da fine agosto torna a segnare come era prevedibile il segno più su alcuni listini dei prezzi consigliati nonostante ieri siano tornate a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati dopo una serie di rialzi. Ancora in lieve callo le medie nazionali dei prezzi praticati su cui si riverberanno negli ultimi effetti dei ribassi registrati dalla prima metà della settimana. E adesso parliamo di un appuntamento molto importante in prato della valle a Padova. Domenica 2 ottobre le associazioni di volontariato e le realtà del terzo settore presenti per la festa del volontariato e della solidarietà inviteranno tutti i visitatori a scoprire e condividere i propri desideri chiudendo così la ricca edizione del festival della solidarietà che dal 17 settembre ci ha accompagnato con diversi appuntamenti dedicati a questa terra. La festa come da tradizione prevede un programma intenso di attività per tutti oltre a stand informativi. Parliamo adesso di una manifestazione sportiva di grande successo per il Veneto. Guardate. No, una cosa bellissima perché poi il maltempo che c'è stato stanotte la rende ancora più bella e affascinante. E comunque è la prima bella e grande corsa all'Ide di Venezia e ringrazio Venice Marathon, l'amministrazione, Vela e quant'altro che hanno aiutato per questa bellissima gara. Molto bello. Era dura la sabbia perché non riuscivi tanto a correrci, però poi c'era un paesaggio spettacolare che imbugliava a correre fino alla fine, soprattutto dalla parte del faro. Oggi è stata una giornata molto bella, un contesto spettacolare, abbastanza dura la corsa sulla sabbia anche perché non sono preparato a questo genere di tracciato, però dai mi sono difeso bene. Allora è un percorso bellissimo, l'organizzazione è pazzesca, veramente la segnalazione era perfetta e bellissimo anche tutto il tifo e l'atmosfera che si è creata. Guarda, bellissima, noi siamo benvenuti apposta, io e mia moglie da Londra per farla, era la prima volta, è bellissima perché fa un po' spiaggia, un po' sentiero, un po' inselciato, quindi veramente stupenda. Percorso impegnativo, faticoso, ma quale isola offre una diga con un faro, una spiaggia, una natura così, meritevole veramente. L'obiettivo nostro ovviamente è quello di promuovere le spiagge, ma di promuovere proprio il Lido, perché il Lido ha bisogno di eventi internazionali, ha bisogno di ritornare quella che è l'isola d'oro che era un tempo e questo evento può essere proprio uno degli eventi principali per il Lido. Per molti è stata la prima volta che hanno visto il Lido come spiaggia, come pineta, come ambiente naturalistico, con la sua diga meravigliosa che va verso il mare e quindi devo dire che veramente gli ingredienti c'erano tutti. Visto che parliamo dal Lido di Venezia e visto che è appena finita la mostra d'arte cinematografica, usiamo un termine cinematografico, buona la prima, come si dice quando si fanno i film e le scene. Noi usciamo da questa esperienza con un grande entusiasmo e la consapevolezza che questa gara può diventare una grande realtà sportiva, ma anche di promozione turistica, di un turismo diverso al Lido di Venezia e quindi ci impegneremo al massimo per il prossimo anno. E ora come sempre dedichiamo lo spazio con la rubrica di approfondimento alla storia, allora diamo subito la linea all'esperta di storia, Marisa Sottovia. Ben ritrovati con la storia, oggi parliamo di Canaletto, pittore, incesore, maestro del vedutismo veneziano e allora conosciamo la sua storia, nacque a Venezia nel 1697 di famiglia benestante. Il suo vero nome era Giovanni Antonio Canal e il soprannome Canaletto è stato dato per distinguere dal padre che era anche lui un pittore di sceneggiature teatrali. Il padre per ragioni di lavoro si reca nella capitale e con sé porta anche Canaletto e l'altro figlio. Ma il Canaletto qui dopo un po' si rende conto che il teatro non rientra nelle sue aspirazioni. Ritorna a Venezia e si avvicina ai pittori più in vista del momento, appunto del vedutismo, che sono Luca Carlevaris e Marco Ricci e si dedica a tempo pieno alle vedute. Le vedute sono un genere pittorico a soggetto di paesaggi, città, scorci, pietra per pietra, canale per canale, come è successo per Venezia. E qui realizza opere importanti, quali appunto il Baccino San Marco, Canal Grande, Piazza San Marco e altre opere. In poco tempo Canaletto si afferma, ma conquisterà anche la comitenza inglese grazie al Grand Tour. Il Grand Tour era quella serie di viaggi che erano effettuati da personaggi famosi e ricchi di tutta Europa che venivano a visitare le nostre città. Successivamente entra in contatto con un ricco collezionista inglese nonché diplomatico, Joseph Smith, e acquisterà molte opere del Canaletto e anche sarà un intermediario per la comitenza inglese. Purtroppo nel 1740 c'è la guerra della successione austriaca. I viaggiatori, i turisti diminuiscono e quindi anche i profitti. E sarà così che Canaletto decise di trasferirsi a Londra e rimarrà per circa dieci anni. Qui, superata la iniziale diffidenza, entra in contatto con l'aristocrazia inglese ed effettua dipinti veramente eccezionali, riferiti alla città, al Tamigi e a vari scorci. Un'opera del Canaletto è conservata anche nella Abbazia di Westminster. Le sue opere poi fanno parte di varie collezioni, tra le quali la collezione del re Giorgio III. Terminato il soggiorno londinese, rientra a Venezia e continua a realizzare vedute di quella Venezia, del Settecento, famosa per la sua bellezza, luminosità e splendore. E realizza opere, ne citiamo una per tutte, il Bucintoro verso il Molo. Canaletto poi realizza i famosi capricci, che sono dipinti, vedute, dove, che si riferiscono alla realtà di una città, ma ci sono anche dei punti di fantasia dell'autore. Canaletto dipinge sino alla fine della sua vita, scomparirà nel 1768, muore di malattia e circondato dall'affetto dei suoi cari. Quindi si tratta di un pittore eccezionale, che si è lasciato un immenso patrimonio di dipinti, di vedute che possiamo ammirare nei vari musei. Grazie a Marisa Sottovia per la rubrica di storia molto seguita. Come sempre vi ricordiamo anche il nostro sito internet www.telecita.tv, dove trovate tutta l'informazione sempre aggiornata e poi anche le rubriche di storia, visibili anche nel nostro canale YouTube e Facebook. Il tempo per la giornata di domani, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Tra la notte e il primo mattino possibili nubi basse e locali riduzioni della visibilità in pianura e nei fondovalle. È tutto per questa edizione, ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi do l'arrivederci. Grazie a tutti.